Amici Trevi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di mercoledì, che vedrà graduale allontanamento verso est della perturbazione responsabile negli ultimi giorni di acquazzoni temporali al centro-sud, ma si avvicina dall'est Europa in moto retrogrado una perturbazione che porterà stavolta degli acquazzoni giovedì sulle regioni settentrionali. Per fortuna abbiamo un gran bisogno di pioggia al nord. Per quanto riguarda nuvolosità, vedete che questo mercoledì non mancheranno finalmente ampie zone di sereno anche al centro-sud e si vede però anche questa nuvolosità che dall'est Europa si avvicinerà piano piano alle regioni settentrionali. Precipitazioni, qualche temporale, qualche acquazzone pomeridiano si formerà ancora nelle zone interne del centro-sud e poi vi segna alla fine giornata l'arrivo di piogge sulle regioni di nord-est. Così in definitiva, mercoledì più tranquillo al centro-sud, ma ancora con gli ultimi acquazzoni nelle zone interne, lungo addorsale appenninica in giornata. E poi al nord dopo inizio di giornata con il sole ecco arrivare le prime nubi al nord-est e come vi dicevo a fine giornata anche i primi temporali. Temperature in tutta Italia abbastanza miti, al nord si superano anche abbondantemente i 20 gradi. Per tutti e tali sulle vostre località consultate l'app gratuita di Trevi Meteo.